Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Ricominciamo dal reddito di cittadinanza perché c'è nella manovra di Giorgia Meloni la revisione del reddito che resterà solo per un altro anno e comunque non per tutti. La Meloni oggi ha ricordato che peraltro questo è quello che lei ha promesso in campagna elettorale quindi lei è coerente. Assolutamente, certo. Ciò non toglie che sia la parte più vergognosa di una manovra imbarazzante perché quando si andrà a calcolare quanto beneficio produrranno tutte quelle norme enormette che si dividono, quella copertina cortissima che si è deciso di utilizzare perché si poteva anche decidere di usare un po' di più e di uscire un po' dall'agenda Draghi che è una gabbia ormai, si scoprirà che il beneficio è irrisorio, che nessuno si accorgerà neppure di tutti quei benefici che oggi vengono vantati. Gli unici che si accorgeranno drasticamente di questa manovra sono coloro che non hanno niente, che da tre anni avevano 500 euro per campare e che non avranno più niente perché si tolgono quattro mensilità tanto per cominciare e poi si toglie tutto. Perché? Perché sei occupabile, cioè perché sei in età da lavoro e quindi se non hai lavoro sei un fancazzista. Questa è una follia totale in un momento di recessione come questo che ci rende unici in Europa altro che i parametri, cosa dirà l'Europa dello 0% eccetera. Siamo gli unici in Europa che tolgono le tutele ai poveri nel momento in cui tutti cercano di aumentarle. Raccontando balle e cioè che chi è in età da lavoro ma non lavora è un fancazzista. Non è che è un fancazzista, è che non c'è lavoro. Questo è il problema. Dice cercatelo. Oggi il sottosegretario D'Urigon ha detto cercatelo e se lo cerchi e non lo trovi cosa fai? Muori di fame con la tua famiglia. Siamo a una spietatezza, tra l'altro per un risparmio di quanto? Di qualche centinaia di migliaia di euro. E basterebbe andare a prendere alle grandi imprese che hanno fatto utili da favola nelle assicurazioni, nella farmaceutica per non parlare delle imprese dell'energia eccetera e per un risparmio irrisorio tu mandi sull'astrico delle persone che erano già vicine all'astrico, compresi quelli che prendono il reddito per integrare uno stipendio da fame, che prendono 3-400 euro al mese e gliene diamo altri 2 o 300 per integrare. Pure quelli che hanno pure trovato un lavoro gli diamo una mazzata. Ma questa è la cosa vergognosa. Non, vabbè per carità, il rispetto dei giornalisti è fondamentale ma c'è una sproporzione rispetto alla polemica sui giornalisti e la gravità di questa guerra ai poveri, di questa caccia ai poveri che grida vendetta. Allora caccia ai poveri Giulia e poi voglio sentire Giannini e Lina Palmerini. Scusami no, volevo chiederti.